Topi di Biblioteca! Oh yeah! Benvenuti in un'altra puntata di Topi di Biblioteca, il vostro podcast preferito per parlare di lettura, letteratura, arte e storia. Oggi una ospite incredibile. Siamo in collegamento con la signora Biblioteca Morcelliana di Chiari. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito, è un piacere. Il piacere è nostro, signora. Non si offenda, ma prima di invitarla abbiamo fatto qualche ricerca e abbiamo scoperto che ha una certa età, ma la porta benissimo. Già, purtroppo è vero. Sono già passati più di due secoli da quando sono nata per volere di Stefano Antonio Morcelli. In tutti questi anni mi hanno conosciuta e frequentata milioni di persone. Potrebbe spiegare ai nostri ascoltatori chi fu Morcelli e perché il suo nome si è legato a quest'uomo? Stefano Antonio Morcelli fu un gesuita vissuto dal 1737 al 1821 e nato nella mia stessa città. Sempre amato da noi Clarenzi, fu per 30 anni il nostro parroco. Appassionato studioso di retorica e filosofia, raggiunse una fama internazionale per i suoi scritti, dottissimi ed eruditi sulle epigrafie latine e sull'antichità classica. Poco prima della sua morte, alla congregazione di Carità di Chiari, ha donato me la sua ricchissima biblioteca. Dovevo accogliere la studiosa gioventù di Chiari, come lui stesso scrisse. E così sono nata. I miei scaffali si riempirono, anno dopo anno, con nuovi volumi, donati da altri benefattori. Diventai così una delle biblioteche storiche più importanti della provincia di Brescia. Interessante! Verrò a farle visita e onorerò la memoria di un uomo innamorato della cultura. Ti aspetto volentieri. Se verrai, ti accoglierà nell'atrio, sopra l'arco della porta, un luminoso abbraccio di lettere dorate che formano questa scritta. È l'inizio di un epigramma in indecasillabi faleci, riportato per intero negli Antoni Morcelli e lectorum libri duo. Però molti non sanno che, mentre lui componeva questi versi, io stessa lo ispiravo. Lui mi dà voce. Invito il pubblico Clarense e tutti i miei numerosi futuri ospiti a consultare i miei libri. Mi rivolgo a una core studiosa literarum, ossia una vera e propria schiera appassionata di letteratura, abituata ad apprezzare le belle arti e l'erudizione molteplice ed eccellente nell'ingegno e nell'amore della lode. Sembra proprio scritta per noi e per i nostri ascoltatori. E allora consigliamo tutti di passare da Chiari e visitare la nostra amica Biblioteca Morcelliana, che salutiamo e ringraziamo. Grazie mille a voi! A presto! Avete appena ascoltato una puntata del podcast. Topi di Biblioteca! Oh yeah!